Non andrà a processo il medico urologo che nel 2018 all'ospedale di Arezzo asportò una porzione del pene ad un 69enne residente in Valtiberina per poi scoprire successivamente che il tumore che si sospettava non c'era. Sono state accolte le nostre richieste quindi si chiude qui. Una vicenda approdata questa mattina nell'aula del Gup del Tribunale di Arezzo Claudio Lara. Il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per tardività della querela avvenuta nel 2021 rispetto all'intervento chirurgico del 2018 quindi ben oltre tre mesi previsti dal codice. Riteniamo che non vi erano assolutamente i presupposti per esercitare l'azione in giudizio per quello che veniva contestato in quanto abbiamo sempre ritenuto la condotta rispettosa di quelle che erano le linee guida che dovevano essere seguite nel caso concreto. Il reato ipotizzato per il medico era quello di lesioni gravissime. Al paziente era stato diagnosticato un cancro al pene da qui la decisione di intervenire chirurgicamente. Il tumore però non c'era come rilevato dagli esami istologici emerse che era affetto da sifilide. Per il giudice però la querela è arrivata tardivamente. Aspettiamo e vediamo le motivazioni della sentenza. Andrà invece avanti il procedimento civile. In corso una causa di risarcimento del danno, l'uomo chiede circa 400.000 euro. La prossima udienza è in programma per settembre.